Sin dalle prime ore del mattino si è registrato un buon numero di presenze aumentate con il passare delle ore. Il primo maggio non si scappa tantissime persone provenienti dai paesi ai piedi del Matese ma anche dal resto della regione si danno appuntamento a Santa Maria del Molise per la festa patronale dedicata ai Santi Maria, Filippo e Giacomo. Una devozione antica le cui origini risalgono al XVIII secolo e si intrecciano con la storia della Chiesa. Il titolo della Madonna è la Regina degli Apostoli e infatti anche nella statua che è molto particolare e anche molto pesante, in legno, sono proprio raffigurati Maria, Regina degli Apostoli, con Gesù in braccio e Filippo e Giacomo ai lati. L'origine di questa festa viene con la fondazione di questa chiesa nel 1745 consacrata dal vescovo all'epoca di Boiano e Sepino e fondata probabilmente da un'eremita e infatti come vedete anche nella sua posizione rispetto al centro del paese è decentrata considerando che il paese stesso di Santa Maria che era una contrada fino agli anni 50 si sviluppò immediatamente dopo il terremoto del 1805. Al di là dell'aspetto religioso Santa Maria del Molise richiama tanta gente in questo giorno di festa anche per altri motivi. Intanto si ha la possibilità di trascorrere una giornata piacevole in uno scenario ambientale unico dominato dalla presenza dell'acqua e poi è d'obbligo fare un giro fra le tante bancarelle. Anche questa fiera, nata per favorire lo scambio di bestiame, ha origini antichissime. Alcuni studiosi la fanno risalire addirittura all'epoca sannita. La fiera anch'essa delle origini antiche risale al periodo dei sanniti e poi successivamente al dominio dei romani. Era all'epoca uno scambio commerciale, era un mercato, un grosso mercato perché non ci dobbiamo dimenticare che noi qui a Vento le prime sorgenti del Biferno e siamo denominati anche capo d'acqua proprio perché le nostre sorgenti irrigano tutta la vallata del Matese. Allora la grande devozione che hanno i nostri agricoltori e che avevano maggiormente allora era quella di pregare questa Madonna che ogni anno doveva dare il frutto che serviva all'agricoltura che era l'acqua. Grazie. Grazie.